Cambiano le zone, ma le menzogne dei non tutto sono sempre le solite. La loro non è una protesta, ma un format. Prenunciano irreversibili, ma inesistenti, danni ambientali e fanno del finto ambientalismo per perpetrare il loro obiettivo anti-culto e anti-filtro. Sono solo i responsabili. Queste sono le parole pronunciate a vicina della stupenda manifestazione di sabato. Una manifestazione di gente, di bambini. La cosa più bella, secondo me, erano i bambini. Fatta da Agostino Ghilvian, che è il vice coordinatore regionale del Piemonte del PDL. Questo per significare che in questa lotta non esistono i buoni da una parte e i cantigliano dall'altra. Comunque sia, è una lotta dove ci dobbiamo confrontare con un fronte che è trasversato. Anche se da altre parti non ho mai sentito pronunciare questi termini e queste parole nei miei confronti. Ora, io sono dello stesso parere di Pasolini. Io sono contro lo sviluppo, contro lo sviluppo drogato e la dimostrazione è sicuramente sotto agli occhi di tutti al giorno d'oggi. Sono uno sviluppo che ci ha portato a una crisi, che porterà sicuramente la Grecia, la gente, i lavoratori della Grecia, le famiglie ancora più povere che sono, che sta tentando di trascinare un'altra buona parte dell'Europa in questo turbinio nero e oscuro. Sono invece per il progresso, perché il progresso è fatto di lotte di uomini, di donne, dei loro bisogni, delle loro necessità. Ed è questo importante. È per questo che io mi sento oggi di essere qui a fare questo intervento, questo intervento di dichiarazione di voto, visto che qui ci troviamo con due mozioni, due ordini al giorno sul tavolo. Se siamo qui stasera, comunque, a ragionare su documenti di questo tipo, a fare questa bellissima assemblea aperta, cosa che nella nostra provincia non è consuetudine, sicuramente tutto ha una patienza. È una patienza che nasce nel 2003 e nel 2005, con un'aggiunta di centro-sinistra, consigli all'epoca la Morano, che all'epoca con un atto unico in tutta la provincia, deliberò a maggioranza di tutto il Consiglio Comunale dall'Italia dell'epoca, il nuovo, al progetto del Terzo Barico. E oltretutto, molto anche, contragamente, alla proposta dell'FS, all'epoca erano FS, per me la mori sulla linea strutturata, propede odici al Terzo Barico. Cioè, noi stiamo qui stasera perché comunque sia qua, da una storia sua. No? Comunque sia, comunque la si veda in discorso del Terzo Barico. Io sono fiero di abitare ad Acquata, perché gli acquattieri, i politici acquattieri, tutti, quelli che hanno seduto ieri come oggi, dietro a questi tavoli, hanno dimostrato un'attenzione, una democrazia, che sicuramente in questa provincia è rara. Ora, sicuramente, ora ragioniamo, io personalmente, dal 2005 ad oggi, sono passati sette anni, ho maturato una consapevolezza diversa e vedo, comunque sia, essendo di dare una risposta diversa al progetto che ancora una volta ci propienano. E allora possiamo partire sicuramente, che ne so, dall'Amianto. E dall'Amianto, come si può dire di no, no? A quel signore che dice che noi siamo un oculto, no? Come si può dire di no all'Amianto? Quando la regione Liguria, in data 13 gennaio 2012, ha dato un parere negativo alle pale eoliche che dovevano essere fatte in quella di montaggio anche per problemi di amianto. Crecciato. Come da scritta tecnica legata dall'Amianto. Pertanto l'Amianto c'è. Oppure, se andiamo sempre parlando di amianto, perché poi il bello è che al giorno d'oggi si va su internet. Cioè non è come una volta che bisogna andare in biblioteca, sapere i volumi, mettersi lì, sapere da leggere la direzione. Uno clicca Google, mette la parolina magica e lì si apre tutto il mondo. L'unica corretezza che rapite è verificare quello che si deve leggere, quello che si può leggere, quello che serve a lui. Ad esempio, sempre sull'Amianto, abbiamo a Paltemonte uno studio che ricorda che in Valenne più o meno dal 1940 arrivare fino ai primi anni degli anni 50 è stata fatta richiesta di ricerca di amianto perché in zona c'è l'Amianto, come dice l'Arabal, chiaramente come tutte le cose economiche non era economicamente sfruttabile, nel senso non era quel quant'attimo che il gioco valeva la carne. C'era il mercato, eh? E' un'azienda del mercato. Certo, certo. Per tanto, queste sono due domande che noi poi poniamo a quel signore, a quel biglia, no? Sulla Mianto e attendiamo, attendiamo sicuramente, attendiamo sicuramente la risposta. Per voi c'è la valutazione, quella c'è stata venduta, questo però, il Corridoio 5, Lisbona, Kiev, Genova, Rotterdam, eccetera, eccetera. Allora, il Corridoio 5 è morto, nel senso che i portoghesi, con la vola, gli spagnoli anche, hanno detto che loro non ci pensano nemmeno a iniziare. I francesi, non so se hanno iniziato qualche lavoro, no? Pertanto il famoso discorso del Corridoio non esiste più, quello orizzontale. Per quello che riguarda il Corridoio verticale, Genova, Rotterdam, non siamo a conoscenza di nessun treno che parte da Genova e va da Rotterdam. E poi vediamo anche a Parigi. No? Nel senso che, se viene fatto, viene fatta la stessa punta, nel senso che non abbiamo nessuna traccia di nessun carro, contenitore, che parte da Genova e a Parigi, ci sono stati a riparare. Anche perché, se fosse così, se fosse così, in questi dieci anni che il progetto ha aspettato di essere fatto, all'imboccatura dei giorni, come ci diceva a Genova, ci sarebbero i contenitori ammontonati, no? Nel senso che i contenitori non ci sono. Anche perché i contenitori sbarcati nel porto di Genova nel 2011 sono 1.800.000. Dovete tenere conto che in questi dieci anni di mancato progetto dal terzo valido i porti vanno avanti. E' stato messo in atto il sesto modulo di Vodri con una capienza di 500.000 contenitori. E il prossimo anno entrerà in funzione il tombamento, così si chiamano il porto ai rendimenti degli specchi aquei, della Pettoro per un altro spazio di altri 500.000 contenitori.